Questa settima edizione del premio ha confermato due cose, che la cultura è consentita da tanti, da tante persone, una specie di ancora di salvezza dopo una stagione così difficile. La cultura, la poesia, la letteratura viste come il ritorno alla vita e alla speranza. Molte opere presentate, premiate qui a Sanremo sono state composte e scritte in pieno lockdown, quindi ecco che era lo spiraglio che ognuno col suo intelletto, con la sua fantasia, vedeva, voleva intravedere in fondo al tunnel. Ora che stiamo uscendo è bene festeggiare il ritorno alla cultura e alla vita. Come dire, sono molto contento di essere qui a Casinò e a Sanremo, che è la città del tutto sommato, abita, anche se sono continuamente in viaggio, e riceve un riconoscimento che premia una lunga attività, fa anche sentire che i tempi sono passati, gli anni sono passati e ho compiuto un teatro uro di anni, però prevale la soddisfazione di vedere il proprio lavoro onorato e riconosciuto, anche dalla propria città, che non è sempre facile. Grazie.